Ben trovati in aggiornamento con il TG di 3B, diamo insieme uno sguardo alla previsione per metà settimana perché dopo l'instabilità di martedì su buona parte del sud, guardate come l'alta pressione ritornerà in auge sulle nostre regioni meridionali ad apportare bel tempo prevalente, ampi spazi di cielo sereno, solamente le perturbazioni sul nord Europa sganceranno delle infiltrazioni un pochino più fresche in quota che potrebbero innescare qualche temporale sull'area alpina, l'Apenino settentrionale in locale avvicinamento, estensione a parte della pianura padana, ma si tratta giovedì di qualche fenomeno veramente di breve durata nel pomeriggio in Valpadana. Le temperature rimarranno grosso modo in linea con il periodo, un caldo ben sopportabile, weekend velocemente, weekend che sarà abbastanza buono, di sole lungo le spiagge, anche isole maggiori, ancora un po' di variabilità al nord, dorsale appenninica, non escludiamo rari temporali di calore ridosso dei nostri montuosi. Poi per concludere la prossima settimana, attenzione perché potrebbe esserci un nuovo ruggito dell'alta pressione africana verso le nostre regioni, quindi nuova canicola, grande canicola in arrivo, rimanete aggiornati su Trebimeteo.